Come ti chiami? Luigi Ombra Scusa, un po' di raffreddura Spiegami un po' tu che cosa fai in questa commedia? Che ruolo ricordo? Io in pratica ho un cuoco No, un cuoco no, perché ancora voglio diventare un cuoco perché non serve solo una bonifica però io in pratica ho un ruolo attualitario Chi sei? Il nomo? Non si dice, non si dice, non si deve svelare